cercate un'alternativa al nuovo alla grosso vacanze c'è alle mie spalle un detleps il 70 57 trend un veicolo dotato naturalmente di basculante con letto nautico e un garage uno dei più ampi della categoria lungo 7 metri 40 motorizzazione ducato 23 150 cavalli immatricolato 2017 ha percorso solo 8.500 chilometri quindi ancora in garanzia ufficiale cellula detleps e garanzia motore cambio parti elettriche un anno senza alcuna franchigia valida in tutta europa questo veicolo può essere vostro a 57.900 euro ed è possibile finanziare l'intera cifra senza alcun anticipo con un tasso pari al nuovo vi ricordo la promozione meno mille vale dire slash io vado in vacanza la promozione della grossa vacanza che vi permette di godere di uno sconto extra di mille euro o una supervalutazione del vostro usato venite provare su strada il veicolo e rimarrete incantati vi aspettiamo qui alla grossa vacanza